Buonasera, finalmente la nuova apertura di questa nuova gestione The Moon, un'attività seria che promuove i suoi prodotti con il cuore, ormai sono anni e anni di pura qualità. Tanto stavamo aspettando questo evento, tanto le persone volevano questa apertura, finalmente la qualità torna con i suoi fantastici prodotti, pizza e tante splendide gastronomie. Prima di parlare di questo meraviglioso evento volevo sottolineare la bontà, la genuinità dei suoi prodotti. Tu ne sai qualcosa CF dei suoi prodotti meravigliosi? Sì, già li conoscevamo, era già presente in passato, aspettavamo questa riapertura, quindi siamo contenti perché i prodotti sono veramente di ottima qualità e non aspettavamo altro nel nostro paese. Sì, hai detto bene, c'è tanto entusiasmo, mesi e mesi in cui tutti i nostri paesani parlavano solo ed esclusivamente di questa apertura. Il nostro cosiddetto Cici, Francesco Russo, tutti quanti chiedevamo ma quando, quando riparte, riparte, eccolo qua, è già nel suo studio di elaborazione a creare le sue magiche elaborazioni. Questo meraviglioso evento stasera colma finalmente tutto questo entusiasmo con splendida musica, tantissima gente, è venuta gente da tutte le parti, ho visto persone dei paesi vicini, in Ocera, Martirano, Falerna, c'è stra pieno. Venite gente, complimenti a Francesco Russo, Peppe Lanzo e tutta la famiglia De Munda. Venite gente, complimenti a Francesco Russo, Peppe Lanzo e tutta la famiglia De Munda.